E' la forza, la forza, la forza dell'amore. Eccola qua, la forza dell'amore, vedete? Guardate, minaccevo di uccidermi, che mego che lo facesse, Amber in aula contro... Ecco qua, vedete la forza dell'amore, vedete? Vedete quanto è forte, quanto è forte l'amore, e io l'ho sempre detto che l'amore è quella forza che sposta le montagne, ma poi dopo ti porta in tribunale col tuo avvocato. Perché avviene tutto ciò? Io l'ho spiegato in questa opera, capito? Perché avviene tutto ciò. Ho spiegato che il matrimonio nasce col patriarcato, è il patriarcato. Prima, ai tempi del patriarcato, non c'era il matrimonio, ma il matrimonio monogamico. Un uomo che sposa una donna, una donna che sposa un uomo. C'erano altre forme di matrimoni, diciamo matrimoni. C'era la famiglia matriarcale che era fatta da tanti uomini che vivevano con tante donne, via di seguito. Poi con il patriarcato nasce la proprietà privata e nasce anche il matrimonio monogamico patriarcale. Per cui in patriarcato tutti continuano a sposarsi, tutti continuano a sposarsi. E poi finiscono con i tutti in tribunale. Dopo in tribunale tutti. E quindi che non finiscono in tribunale vivono insieme come separati in casa, capito? Come separati in casa. E' una storia che continua a ripetersi. Ma perché continua a ripetersi questa storia? Ma io l'ho spiegato in quest'opera, cari amici, l'ho spiegato in quest'opera. Per cui, se voi volete sapere le cose, dovete leggere La Stimpe del Serpente di Serafino Massone. Ok, l'amore è quella forza che sposta le montagne e che poi porta in tribunale assieme all'avvocato. E gli avvocati sono tutti felici e contenti. Ok, cari amici, a tutti tanti cari saluti da Serafino Massone.